Sì, eccoci allora Luca in diretta con il presidente del Pescara Daniele Sebastiani, che ringrazio per aver accettato il nostro invito, in diretta al Tg8, presidente, per commentare subito questo mercato. Che mercato è stato? È il solito mercato di gennaio, dove sono tante voci, tante trattative, poi alla fine si fa poco e niente. Noi siamo andati a Milano cercando di trovare qualcosa che ci potesse migliorare se ce ne fosse la necessità, visto che questa squadra sta facendo campionato da protagonista. Non c'è stata la possibilità, ma non per mancanza di volontà da parte nostra, ma perché i nostri obiettivi erano chiari e questi obiettivi non si sono mossi, per cui abbiamo preferito non fare nulla per non creare casino. Parliamo di attaccanti, chiaramente, Presidente. I tre nomi che potevano migliorare il Pescara erano Ciofani, Ceravolo e Melchiorri. Sui tre cosa è successo? È successo quello che sapete tutti, perché Ciofani è stato dichiarato incedibile, il ragazzo ci aveva dato disponibilità. Ceravolo poteva essere un obiettivo, io sono stato due giorni insieme al suo agente a Milano, Andrea Cattoli, c'era la possibilità di portarla a Pescara, così avrebbe avuto la possibilità di andare dovunque, solamente che purtroppo il Parma non è riuscito a fare un acquisto e quindi l'ha tenuto lì perché aveva bisogno dell'attaccante da avere in rosa. Melchiorri? Melchiorri non era, onestamente, una possibilità del Pescara, semplicemente per il fatto che Santo Padre mi aveva chiesto 3 milioni e mezzo. Si è anche arrabbiato che le ha detto le cifre in televisione. Ci siamo anche chiariti perché io non ho detto nessuna cifra, mi hanno mandato il link della televisione e mi ha detto ma io volevo solamente prenderti in giro dicendo che non erano 3 ma 3 e mezzo, e così era, però la realtà è che non c'era volontà di cederlo perché chiaramente 3 milioni e mezzo per Melchiorri mi sembrano un pochettino esagerati. C'è un po' di malumore nella piazza, Presidente Sebastiani, perché è stato ceduto Maschin, uno del trio del centrocampo delle Meraviglie, e non è stato sostituito. Lei come risponde? Ma rispondo con il fatto che noi abbiamo 6 centrocampisti che sono bravissimi, addirittura nelle ultime partite Maschin non è stato nemmeno utilizzato, e tra le altre cose forse qualcuno che non viene allo stadio magari non sente nemmeno che cosa combinavano alcuni a quel ragazzo mentre giocava. Purtroppo qui se va via ha sempre ragione chi non c'è, però noi siamo tranquilli perché abbiamo un centrocampo di grande valore e sicuramente abbiamo dato una possibilità a un ragazzo che voleva quella possibilità. Con la gente hai fatto pace e chiarito dopo l'esternazione di Livorno? Io ho fatto la mia considerazione e credo che dopo la giornata di ieri probabilmente l'ho chiamato ma non mi ha risposto e avrò anche modo di chiarire un altro aspetto perché se poi hai a che fare con una persona che fondamentalmente non ha nemmeno il mandato del ragazzo non ti puoi lamentare se magari arriva qualcun altro che trova una soluzione al ragazzo e ti porta via anche il ragazzo. Sicuramente la responsabilità non è del Pescara e del suo presidente. L'ultima sul mercato, è stato vicino lo scambio Carretta-Marras? No, ce lo devo dire, ce l'hanno proposto ieri nel pomeriggio, però sappiamo tutti che Marras è il giocatore che è stato impiegato molto e che sicuramente è uno di quelli voluti fortemente dal mister e quindi non è che stiamo qui a fare i dispetti all'allenatore. Presidente, si sente di dire che l'obiettivo è ancora la Serie A al pubblico, ai tifosi perché c'è un po' di malumore, perché non è arrivato il grande attaccante. L'obiettivo resta immutato, se la sente di dirlo? Ma io non è che mi sento di dire che l'obiettivo resta immutato perché l'obiettivo della Serie A non c'è mai stato da noi. Però noi siamo là e ce la dobbiamo giocare fino alla fine. Come giustamente stamattina ho letto un'intervista di Farelli che diceva appunto abbiamo fatto tanto bene fino adesso e qui ci sono fondamentalmente solo critiche. ieri sera venendo giù ho partecipato a un paio di interventi televisivi e ho ascoltato delle cose che veramente non stanno incerendo in terra. Non esiste al mondo qualcuno che dice che ci dovevamo rinforzare andando a prendere i giocatori in Serie C e che rinforzo era? C'è qualcuno che dice che dobbiamo prendere un nome di spessore e poi dovevamo andarlo a prendere in Serie C. Ho qualcuno che ieri sera ha fatto uno sproloquio a mio avviso senza senso, senza sapere, senza conoscere quelle che sono le dinamiche del mercato e poi magari la stessa persona ha offerto al mio direttore un giocatore che sta giocando in Serie C. Quindi di chi stiamo parlando? Purtroppo qui ognuno se la suona e se la canta come vuole. In questo momento poi siamo anche nelle immediate vicinanze delle elezioni e quindi c'è anche un po' di campagna elettorale gratuita sulle spalle del Pescara. Io non ne faccio, non sono mai voluto entrare in politica proprio per evitare. Mi astengo anche dalla competizione elettorale non partecipando perché voglio essere al di sopra delle parti come lo sono sempre stato invece qualcuno usa il Pescara per fare campagna elettorale. Ma purtroppo... Presidente, proprio in chiusura, in tutto questo scenario che abbiamo raccontato non ci dimentichiamo che c'è il Brescia. Appunto, non ci dimentichiamo che c'è il Brescia perché l'unica cosa vera che c'è è la partita di domenica contro il Brescia. La partita di domenica contro il Brescia è una partita importante perché viene dopo una partita non bellissima disputata dal Pescara diciamo così a Livorno però contro una grande squadra secondo me contro la squadra più bella di questo campionato e quindi domenica avremo anche delle risposte al campo. Appello al pubblico? Sì, orario solito. Poi tra l'altro anche i prossimi posticipi, il Pescara di sera è gettonatissimo. Purtroppo il Pescara è gettonatissimo di sera evidentemente le tv avranno un picco di ascolto elevato quando c'è il Pescara l'appello che faccio ai tifosi è sempre lo stesso chi vuole bene al Pescara ci segua chi non vuole bene al Pescara c'è solo da chiacchierare può stare tranquillamente a casa. L'ultima, Presidente Sebastiani nelle file del Brescia c'è Alfredo Donnarumma col senno di poi quanto è grande il rimpianto per quell'estate? Averlo mandato via così? Io credo che sia giusto chiarire una volta per tutto questo aspetto di Donnarumma perché sento stronzate dappertutto e quindi è giusto che io dica come sono andate le cose Donnarumma era un giocatore che noi avevamo preso l'anno prima per darlo al Teramo perché Donnarumma non voleva andare direttamente al Teramo ma voleva passare per una società più importante quindi noi l'abbiamo preso e l'abbiamo prestato al Teramo alla fine della stagione dove hanno fatto la stagione delle meraviglie del Teramo di Donnarumma e della Padula sono rientrati, la Padula l'abbiamo preso svincolato al fallimento del Parma Donnarumma è rientrato in sede, l'abbiamo portato in ritiro dopo una settimana il tecnico ha detto che non sarebbe stato il caso di lasciare solo la Padula tant'è vero che siamo andati poi a prendere Cocco che ritornando a bomba noi abbiamo sempre cercato di fare qualcosa di buono per questa squadra e la Padula è tornata al Teramo perché gli accordi erano quelli tornata a Teramo, il problema è che Teramo perché l'errore di base non l'ha fatto né il Pescara né Massimo Oddo né nessun altro l'errore di base è stato fatto al Teramo perché noi l'abbiamo rimandata a Teramo il Teramo che era in quel momento in serie B gli fece un contratto che prevedeva che nel caso in cui ci fosse stata la sentenza e il Teramo fosse ritornato in serie C il ragazzo era libero quindi noi questa cosa non la sapevamo e quindi sostanzialmente il ragazzo è liberato si è liberato, andò a Salerno anche a Salerno tutto sommato lo mandarono via quindi abbiamo sbagliato in tanti noi non abbiamo sicuramente sbagliato dal punto di vista delle carte perché il buon Campitelli ogni volta che è mio amico ogni volta che lo sento lo prendo in giro su questa cosa perché fondamentalmente abbiamo lasciato libero un ragazzo mettendo una clausola che noi come Pescara non conosciamo nemmeno grazie al Presidente Sebastiani intervenuto in diretta al TG Otto Sport a proposito Presidente risposta secca sia no ma la Padula ce l'ha fatto veramente un tentativo a proposito di la Padula Donnarummo no perché era impossibile grazie al Presidente Daniele Sebastiani è proprio tutto la linea può tornare allo studio Luca